Dopo il recupero di ieri della partita Profavara-Caccamo, valevole per la tredicesima giornata del campionato di eccellenza Sicilia a Gironea, vediamo come cambia la classifica. In prima posizione Licata 34 punti, Canicatti 33, Città di Sant'Agata 28, Mazzare e Dattilonuar 26, Parmonval 24, Geraci 22, Albalcamo 21, Castellammare 18, Mussomeli e Marsala 17, Cuspalermo 14, Profavara 12, Partinicodace 9, Caccamo 7, Castelbuono 2 punti.